E benvenuti qua alla prima parte dell'opening pack, questa volta apriremo 6 busti Korya, 2 di Amoncat e 3 di Kaladesh Iniziamo con questo caso, mi sembra che è stato il primo draft storico che c'è stato all'agosto, durante quest'ultimo agosto in attesa delle nuove peripezie, dei nuovi draft, della nuova espansione, hanno fatto dei draft con delle espansioni vecchie Fai tornare un permanente avversario in mano, distruggi un artefatto, quando l'inseguitore ha detto che entri al campo di vatà, ottieni fulmini Ecco, una volta l'inseguitore attacca, puoi pagare 2 fulmini, se lo fai crea una pedina Scegli due versari, la rappresa del fulmino di 2 danni a tutti e due, il piccatore entra tappato A minazzare fin tanto che controlli un artefatto e un altro meccatitano, incredibile, ne ho due Quando entri nel campo di battaglia distribuisci 4 segnalini, più uno più uno, tra un qualsiasi numero di creature Che controlli E a travolgere Avevo già trovato un meccatitano, quello rosso E anche quello era molto potento Creatura con volare, creatura con travolgere Creatura che ottengo 4 fulmini La murena prende più due, meno due Creatura incantata prende più uno, più tre Questa ce l'ho già E poi Veto, neutralizzo una magia, un'abilità attivata, un'abilità innescata bersaglio Bah, potevo magari trovare qualcosa di meglio, però ci accontentiamo Allora Bene a questo, bene che ho trovato un'altra carta giolli oro Perché mi serviva tantissimo Le creature che controlli prendono più due, più uno, buona Una creatura prende più cinque, più cinque O le creature che controlli prendono più due, più due fino alla fine del turno Mecoioni Quando entra nel campo o muore Per ogni tipo di segnalino su un permanente o su un giocatore bersaglio Quale permanente il giocatore riceve un altro segnalino normale Crea una pedina creatura artefatto servomeccanico Crea una pedina creatura artefatto costrutto xx colore Dove x è il numero di creature che controlli Minchia, soltanto uno? Eh, non è malazza questa qua, eh? Non è malazzo come creature artefice umano E la prima parte di Kaladesh l'abbiamo finita Il secondo draft era quello di Amonkhet Dell'antico Egizio Egitto, quello che l'è Condento questi incantesimi che sono molto belli Purtroppo non ho fatto tanto bene con questa espansione Infatti ho sbloccato pochissime robe Soltanto due buste Ho fatto abbastanza cacca Ripeti il seguente procedimento x volte Ogni avversario perde tre punti vita A meno che quel giocatore non sacrifichi un permanente non terror Scarto una carta Non è male come carta La Amonkhet Remastered ha delle belle carte Però purtroppo Ho fatto schifo nel draft Non ho sbloccato niente proprio Ma proprio niente di niente Ogni volta che il ragno degli obelischi inflige danno Metti un segnalino meno uno Meno uno su quella creatura Ogni volta che metti un segnalino meno uno Su una creatura L'aniversario perde un punto vita E tu guadagni un punto vita Invece per quanto riguarda Amonkhet Dà molti segnalini meno uno Meno uno alle creature Quando la Gran Vigir Della dilazione Entra nella battaglia Poi esiliano nella creatura L'aniversario si è attaccato Bloccato in questo turno Ira di Dio Distruggi tutte le creature Non possono essere rigenerate Che bello il termine rigenerare Che era dai tempi in cui giocavo proprio a Magic 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 che non lo sentivo E mo adesso ci divertiamo Perché Con le carte di Cori Ho ben sei buste Quando la linza entra Tappo una creatura bersaglio Non è male Questa guardagna quattro punti vita Questo è il mazzo con diciamo Le creature mutazione Non è male neanche questa Allora Ok Però vabbè Cioè Mi andava meglio Se trovavo qualcos'altro Ecco Finendo a fine Una creatura bersaglia Diventa una server Blu quattroquaccio Attacca Puoi cambiare la forza La costituzione base Di un umano bersaglio Ok Ma io voglio la ciccia Ogni volta Una creatura Non pedina Che controlli Muore Magina due carte Poi riprendi in mano A tutti i miei Una carta creatura Con valore di mano inferiore A quello Della creatura Che è morta Sacrificano Logico Tagni punti vita Pari al valore Di mano maggiore Tra le creature che controlli È un incantesimo Un po' strano Soprattutto Tre colori Porca miseria Però Ce lo facciamo andare bene Ecco Avrei preferito Senza ombre di dubbio Altro Però Inflizze danni Una carta bianca Distrugge un artefatto Un incantesimo Questa magia Ha lampo Fintanto che controlli Un permanente Con lampo Distrugge una creatura Drago spiritello Che è bellissimo E lo spezzazemme Porca di quella miseria Tipo Ce lo già Che cosa mi dai A rifare Lo spezzazemme Che ce lo già Punto di domanda Il pangolino Sempre nei nostri cuori Allora Vediamo qua Un attimo Che mi si Autorisente Così almeno vedo Se va Tutto bene E qua Cosa troviamo Colossificazione Una creatura Prende più 20 Più 20 Ma porca di quella miseria Io avevo già Quel mestiere lì L'avevo già trovata Penultima busta Speriamo di trovare Qualcosa di simpatico qua Distrugge una creatura Con volare Creatura incantata Prende meno 2 Meno 0 E perde tutta la vita Sotto missione mistica Questa non è male E ultimatum Inatteso Giustamente Porca di quella Stramega miseria Ce l'avevo già Ultimo bustamento Allora Vediamo qua Ultime robe Che possiamo andare Ad aprire Ah però Entra il campo Di totale Mette un segnino Volare Su una creatura Non umano Versaglio Che controlli Ma Mandato pure 40 gemme Sì Mandato pure 40 gemme Cioè io volevo Sbloccare qualcos'altro Ma A me va benissimo Anche 40 gemme E mica c'ho i problemi Io E per questo appuntamento Siamo giunti Alla conclusione Ci vediamo Alla prossima Con altre Incredibili buste